ok benvenuti la volta scorsa abbiamo visto come fare una texturizzazione di un piano molto banale vedete che è un piano proprio stupido ma può servire per fare dei pannelli costi molto contenuti vediamo ora come fare una texturizzazione un pochino più complessa in cui facciamo anche una UV texture proprio per fare un vaso simile a questo lo faremo molto breve quindi faremo una cosa di questo tipo vedete che come ho spiegato la volta scorsa sto usando Simona Stick che ho fatto anche un video per spiegare come installarlo in modo tale da fare queste prove senza spendere soldi soprattutto all'inizio l'inden dollari può essere utile andiamo nel nostro bellissimo blender ricominciamo da capo quindi partiamo dalla situazione vuota e qui il nostro obiettivo è quello di fare un vaso per fare un vaso dobbiamo avere la silhouette cominciamo costruendo partendo dalla foto del vaso che è quella che abbiamo visto prima lo vediamo di fronte quindi premiamo 1 del tastrino numerico 5 per arrivare in orto ci avviciniamo quindi qui togliamo questo cubo ci interessa relativamente poco vogliamo mettere un'immagine di background l'immagine di background abbiamo visto che si può mettere in due modi diversi uno è quello di andare su la parte destra questo qui vedete che si può attivare o disattivare con la N N è il tastrino numerico no, l'N di Napoli non quello del tastrino numerico magari facciamo una cosina abilitiamo anche i tasti premuti così mi seguite meglio quindi andiamo in user preferences andiamo in addons display, no, screen vediamo i tasti premuti screen cast keys eccolo qua abilitiamo save as default ok, quindi abbiamo qua lo screen cast keys quindi potete vedere quello che io faccio mettiamo un pochino più grosso un pochino più grosso poi qui vi è la possibilità di cambiare il colore facciamo bello verde o giallo insomma questo colore qua così vedete quello che io adesso faccio perché può essere interessante quindi l'immagine in background qui chiudiamo il screen cast abbiamo background image l'abilitiamo apriamo add image e poi scegliamo open e scegliamo una famosa immagine del quadro quindi il greek vase eccolo qua quindi vedete che ce l'abbiamo nell'immagine in background attenzione che questa immagine di background qui è settata per funzionare su tutte le viste altrimenti uno potrebbe dire di vederla soltanto su una vista quindi ad esempio sulla soltanto sulla vista di sinistra quindi adesso invece siamo sul front qui non si vedrebbe oppure appunto vederlo solo sul front però da qui capite che se io mi muovo appena un po' dalla vista quindi se io oscillo così sparisce l'immagine in background quindi questo è un piccolo problema di questo modo di fare l'immagine in background ma comunque è uno dei modi più utilizzati se non volete avere il vincolo di vederlo soltanto sugli assi principali c'è un sistemino che avevo spiegato che era quello di fare shift A aggiungere un empty e l'empty potete aggiungere un empty di un tipo particolare cioè quello che si chiama image allora l'empty di tipo image ecco lo allineiamo alla vista in modo tale da vedercelo qua vedete che questo permette di definire un riquadro un frame e in questo frame possiamo andare a sistemare la nostra immagine quindi possiamo andare a prendere open oppure visto che l'abbiamo già aperta a prendere l'immagine del vaso greco perfetto quindi a questo punto vedete che l'immagine è quella il vantaggio rispetto a prima è che se io mi muovo l'immagine rimane lì e quindi può servire per non perdere l'orientamento comunque torniamo di fronte quindi voi potete scegliere uno di questi due sistemi allora qui la tecnica per poter fare questo vaso consiste nel centrare il vaso in modo tale che sia centrato sulle coordinate questo è fondamentale quindi lo spostiamo un po' in modo tale che sia praticamente a mezzo vedete l'importante è che sia esattamente a metà della coordinata questa qui che vedete la z allora nel momento in cui è abbastanza centrato possiamo avvicinarci e poi possiamo usare il trucchetto di segnare i punti come vi avevo spiegato quindi andiamo in edit mode dobbiamo dobbiamo creare prima di andare in dobbiamo creare un primo oggetto quindi facciamo che cosa facciamo un shift A quindi l'empty l'abbiamo creato ma adesso ci creiamo una mesh facciamo per esempio un piano questo piano allineamolo pure alla nostra vista però tanto quello che ci interessa facciamo tab cancelliamo comunque tutti i vertici perché li faremo tutti da zero e quindi abbiamo ottenuto una mesh vuota da non confondersi con l'empty mesh di prima l'empty object quindi a questo punto possiamo aggiungere i punti semplicemente andando qua e premendo control tasto sinistro quindi se faccio control tasto sinistro vedete che compare un punto togliamo una freccina e a questo punto posso forse l'ho messo in una posizione sfortunata beh comunque posso selezionarla e poi G me lo sposto perché l'obiettivo è quello di andare in una posizione qua e poi avendo selezionato quel punto faccio control tasto sinistro e faccio poi tutta la silhouette del mio vaso adesso cerco di farlo un pochino veloce ok questa è la silhouette e poi lo porto a chiudere in modo tale di arrivare esattamente alla metà dove eravamo prima vado qua seleziono il punto di inizio faccio sempre control e qui lo estendo quindi continuo a estrudere in maniera tale da fare l'interno del vaso ok e anche questo vedete questi sto facendo praticamente una specie di ok quindi questo qui su per giù è il nostro potrebbe essere diciamo la struttura di questo vaso lo selezioniamo tutti i punti andiamo in 7 vediamo dall'alto 7 abbiamo selezionato tutti i punti quindi avendo tutti i punti selezionati possiamo usare lo spin vedete che permette di fare il giro quindi noi mettiamo 360 gradi da chiudere aumentiamo gli step perché vedete che adesso è un pochino pochino quindi mettiamo magari gli step mettiamo un po' di più mettiamo 16 ad esempio ok quindi questo dovrebbe già andare bene a questo punto vedete che più o meno stiamo andiamo bene ci abbiamo seguito la forma del vaso ricordiamoci che però questo sistema produce di solito dei duplicati quindi selezioniamo tutti i punti e andiamo a cancellare i duplicati controlliamo quanti ne abbiamo 476 remove double vedete ha tolto 28 vertici se non avessimo fatto questa operazione avrebbe una schifezza lungo la giuntura cioè dove i vertici sono duplicati poi ricordiamoci ancora che avendoli tutte selezionate ci conviene fare lo smooth non quello che è un deform ma facciamo lo shading smooth e vedete che abbiamo il nostro quindi facciamo F12 vedete che abbiamo il nostro vasino e questo è un piccolo inizio di modellazione del vaso ma a noi interessa in realtà adesso texturizzarlo ho fatto tutto questo discorso perché lo voglio texturizzare quindi per texturizzare abbiamo detto nel video precedente che dobbiamo essendo in object mode e magari aprendoci la finestrella di UV map abbiamo detto che questo è importante UV image editor vabbè adesso c'è il rendering di prima magari ci mettiamo l'immaginina nel vaso greco così insomma si capisce andiamo ad aggiungere il nostro materiale aggiunto andiamo ad aggiungere la nostra texture la facciamo non procedurale quindi è una immagine eccola e poi abbiamo detto che ci va la UV map ora la UV map questa volta dobbiamo costruircela quindi andiamo nella vista frontale 1 ok vedete che tra l'altro qui se volete vedere che viene mappata posso anche fare Z per vederla in wireframe oppure così e poi possiamo andando in edit mode vedete possiamo fare andare ad aggiungergli qua una UV map vedete che però a questo punto la UV map di default non ci va bene e noi invece cosa facciamo avendo tutto selezionato così quindi volendo vedere questa cosa qua in questo modo facciamo U e facciamo un unwrap from view project from view vedete che viene fuori questo bellissimo questo bellissimo forma dell'oggetto qui sull'immagine di destra possiamo caricarci quindi su questa cosa possiamo caricarci l'immagine del quadro e poi il nostro obiettivo è quello di far coincidere questa immagine con il quadro quindi andiamo qua clicchiamo col tasto destro L per selezionare tutta la zona lo spostiamo in modo tale che sia centrata quanto più possibile S Y per alzarla un po' in modo tale che sia un pochino ok S X per allargarla in modo tale che copra il nostro vaso ok quanto più possibile poi possiamo facciamo O che sarebbe il proportional e poi possiamo magari restringiamo un po' questo è il proporzionale possiamo aggiustare un po' i vertici cercando di evitare che tutto finisca cioè che si cioè che finisca fuori insomma anche questo vertice volendo possiamo fare G no non possiamo ah beh se possiamo farlo togliendolo quindi facciamo G quindi alleniamo qua comunque l'importante è che ecco questi vertici qua ad esempio non mi piacciono qua aggiungiamolo ecco riduciamo un po' ecco tringiamo dentro l'idea è che appunto che queste cose qua siano seguano abbastanza fedelmente senza storture l'immagine del quadro ok vedete che ho fatto quest'ultima cosa si può fare non si può fare a seconda di come vi sentite ok così in questo modo riusciamo ad aggiungere la maggior parte dei dettagli poi volendo qua si può evitare che ci sia la struttura quindi seguire quindi con G praticamente no in questo caso togliamo il proporzionale ecco cioè abbassate questi ma è tale da fargli seguire anzi no facciamo A control Z comunque qui l'idea è quella di prendere tutti i punti che ci sono qua e fargli seguire in realtà la cosa che c'è sotto in modo tale che non si veda però questo è un piccolo lavoro certosino che poi eventualmente vi fate qui tra l'altro vedete che ci sono sia i punti davanti che i punti dietro quindi possiamo muovere A B per selezionare tutti i punti insomma qui è la stessa cosa dovreste fare anche qua per riuscire ad avere questa cosa buona vabbè ma adesso per il momento teniamolo così allora questa UVMAP va bene sponiamo che vi vada bene allora andiamo ad associarla quindi qua diciamo che la UVMAP associata è tipo UV l'immagine diciamo non l'abbiamo messa mettiamo sempre l'immagine originale che rimane intoccata questa qua gli mettiamo la UVMAP che è l'unica che abbiamo la UVMAP e poi proviamo a scattargli una foto con F12 e vedere se abbiamo fatto tutto giusto quindi F12 e pare di sì perché vediamo che il nostro vaso è corretto e se vedete è un po' piccolino se nella foto lo volete vedere un po' meglio potrebbe essere sufficiente un trucco facciamo CTRL ALT 0 del tastrino numerico che ci consente adesso ho fatto N per far vedere a destra possiamo lock camera to view e poi in modo tale da poter avere la foto giusta del nostro oggetto qui se facciamo F12 vedete che la telecamera è un pochino troppo vicina non la facciamo con l'altra tecnica quindi vediamo dall'alto e la telecamera è questa qua è un pochino troppo andiamo in object mode qua quindi la allontaniamo un po' poi andiamo così la mettiamo un po' di sbieco 7 R la ruotiamo qua 3 boh può andare può andare anche così vediamo un po' se cosa avviene con F12 non viene ancora niente perché non è ah si sta puntando non sta puntando l'oggetto quindi 7 R l'oggetto è un pochino troppo piccolo eventualmente lo comunque si capisce che è testurizzato un altro sistema prevedere lo texturizzato che avevo insegnato è quello di andare qua sul display e qua dire textured solid a questo punto vedete che si capisce meglio la texturizzazione oh il lempty che sta dietro possiamo anche toglierlo se vogliamo oppure nasconderlo quindi selezioniamo lempty facciamo anche H e così vediamo l'oggetto vedete che ci sono un po' di sbavature qui abbiamo cercato di aggiustare un pochino la prima riga che infatti è venuta bene le altre righe sono un po' però insomma l'effetto potrebbe essere già accettabile quindi questo vaso lo prendiamo così com'è object mode e facciamo lo stesso lavoro dell'altro video quindi lo sportiamo in formato collada selection only apply modifiers e questo facciamo vaso base andiamo nella nostra simona stick andiamo qua e tecleiamo fatto la volta scorsa e qui facciamo upload del nostro modello quindi vaso base vedete che abbiamo il vaso base questo le normali non sono a posto ma conviene avere le normali a posto prima di importare quindi andiamo qui andiamo a controllarci le nostre normali essendo in edit mode andiamo a vedere le normali queste vedete che le normali sono tutte sballate quindi basta per avere le normali giuste fare un bel ctrl n che rimette a posto di solito tutte le normali e adesso sembrano tutte buone e però riesportiamo quindi facciamo export con l'ada e c vaso base questo qui lo riesportiamo quindi torniamo in qui facciamo ritentiamo upload model vaso base vedete che il vaso adesso sembra un po' più credibile non ha troppi difetti quindi adesso qui convierrebbe use load above chiamiamolo vaso scusate la voce calculate weight and fee upload ctrl n vaso eccolo lì eccolo lì il vaso piccoletto con tutte le sue cose per applicare visto la texture che abbiamo usato è esattamente la stessa di prima basta prendere e applicargli la sopra e come vedete in realtà la texture che ho usato per questo piano e la texture che ho usato per questo vaso sono esattamente identiche e il risultato a parte alcuni difetti laterali poi ci sono dei sistemi per correggerli in realtà spostando la UV map si dovrebbe riuscire a correggerli bene comunque il risultato non è per niente male poi come abbiamo visto basta aggiungere un briciolo di shininess se vi interessa per ottenere un effetto di questo tipo se non vi interessa la togliete la shininess e eventualmente mettete un full bright e insomma così siamo arrivati alla texturizzazione elementare di un vaso che mi sembra quindi progettazione modellazione 3D e texturizzazione di un vaso facendo una UV map con un project map per questa sera è tutto ci sentiamo buonasera